Nel tempo risultati sempre migliori. L'andamento della stagione turistica del 2016, e lo dico molto... Quello che fa Confcommercio, fatemelo dire con un punto di orgoglio, lo fa avendo la rappresentanza delle imprese. Se guardiamo altri territori, di strada ne dobbiamo fare tante, perché se parliamo di oltre 4 milioni di presenze a Lecce, nel Salento e nel Foggiano, e noi parliamo di un piccolo incremento, sicuramente, ma credo che di strada ne dobbiamo fare. C'è bisogno di una convinzione da parte di chi ha delle responsabilità politiche che faccia suo questo concetto legato al mondo del turismo. Noi possiamo fare la nostra parte come Confcommercio, e la stiamo facendo, proponendo le imprese che devono ragionare. Io quello che dico, e dico sempre le nostre imprese, le mie imprese, noi dobbiamo ragionare di sistema. Quello che non abbiamo fatto per tanti anni. Dobbiamo essere bravi a qualificarci, bravi a proporci, bravi ad aggiornarci, bravi ad essere... Quando noi diamo servizio dobbiamo avere degli operatori che abbiano almeno la conoscenza della lingua inglese. Cioè, dobbiamo fare degli sforzi, come dico ai miei, ma tanti mondi devono fare uno sforzo, e quindi parlo di chi ha delle responsabilità politiche, per creare le condizioni che questo territorio si possa sviluppare.